Lo strumento File Manager di Aruba crea in automatico due cartelle di backup settimanale e giornaliero, che contengono copie del materiale del tuo spazio web. In questo tutorial ti mostrerò come ripristinare file e cartelle dai backup presenti sul File Manager. Per iniziare, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username chiocciolaruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, seleziona la voce con il nome del tuo servizio. Clicca sulla voce File Manager. A questo punto, l'accesso al tuo spazio web è avvenuto correttamente. A sinistra del pannello visualizzerai le due cartelle di backup. Seleziona la cartella di backup desiderata, ad esempio Backup settimanale. Sulla sezione di destra visualizzerai il contenuto della cartella. Seleziona il file o la cartella che vuoi recuperare. Clicca sul tasto destro del mouse e seleziona la voce Copia. Il contenuto è stato copiato. A questo punto, puoi incollarlo nella cartella principale del dominio, nota come Root, o all'interno di una qualsiasi altra cartella presente nel tuo spazio web. Puoi effettuare la stessa operazione utilizzando il trascinamento della selezione. Ti basterà selezionare l'elemento da spostare, trascinarlo nella cartella di destinazione e rilasciare il pulsante del mouse.